Manto stradale dissestato e pericoloso e strade da terzo mondo. Una situazione che non può essere risolta solo con il limite di velocità di 30 km orari che perde il suo significato di fronte ad uno scenario desolante e disarmante come quello che ogni giorno assistiamo. Un vero grido di dolore, quello lanciato dal gruppo Difendiamo il quartiere Ferrovia di Foggia con tanto di immagini girate lungo le tre corsie, una delle strade principali della città. Un vero grido di dolore, dunque, quello di un gruppo di attivisti che evidenzia una delle situazioni più complicate della città di Foggia. Sembra di essere nei terreni di campagna di un paese sperduto del terzo mondo. Dicono invece che siamo su una delle arterie principali di Foggia, Viale Michelangelo, dove appunto sono state girate le immagini da un automobilista. Che senso ha abbassare i limiti a 30 km all'ora se da 10 anni la situazione è sempre questa? Se lo chiede il gruppo Difendiamo il quartiere Ferrovia, che appunto ha inviato una nota alla redazione con allegato un filmato sulle condizioni del manto stradale. Per una città che si richiene civile risulta inconcepibile nel 2024 offrire al pubblico strade di questo tipo. Chissà quanti cittadini foggiani si vergognano di questo biglietto da visita da dare ai turisti. Voragini profonde, enorme, dossi causati dalle radici affioranti, le quali spaccano il manto stradale e dividono in due l'asfalto. E i dissesti su quella che era un tempo la tangenziale di Foggia sono impossibili da contare. Mettono a serio rischio la sicurezza degli automobilisti e in più di un'occasione hanno causato anche notevoli danni alle auto. Non basta un'andata più piano, dicono che sa tanto di lavata di mani, nei comuni seri non si interviene penalizzando i cittadini, ma risolvendo i problemi, specialmente se durano da oltre 15 anni e interessano una delle arterie principali della città di Foggia. Sulle tre corsie sono necessari interventi di ripristino veri, non rattoppi di fortuna che durano fino alla prima pioggia continuano. Va scorticato l'asfalto e va ristudiata la disposizione degli alberi. Questa è la speranza di tutti quei foggiani che vogliono tornare a casa senza rompere la sua auto e senza addirittura avere incidenti.